Cominciamo pure. Proviamo a vedere se funziona l'autogiro. Gli autogiri sono sempre una scommessa. Mi ho fatti tanti, non sono mai riuscito a farne volare uno. Adesso un po' di vento c'è. Facciamo finta di essere un elicottero e partiamo dalla pista degli elicotteri. E' un po' di vento. 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 Ho fatto un po' di fatica perché era piccolino. Voglio le ruote del Piper per decollare da terra. Grazie per il figlio. Ok, senti, puoi salutare... Fantastico, però di vento ce n'era un po' troppo per decollare da terra. Quindi abbiamo danneggiato il mast ma lo riaggiustiamo facilmente. Piccolissimo danno, però vola molto.